Tic Tico tico, tico 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 ok apri bene gli occhi guarda adesso i tocchi guarda sempre qui, fisso qui guarda, guarda, guarda ok, ok, però sembra tutto io credo che sia gli occhi ok che cos'è? occhiali rosa bene bene una bocca che cos'è? cioccolato, ok? cioccolato ok non rilevo nulla, sembra tutto ok buongiorno, salve si accomodi, prego come sta? tutto bene? ottimo prego mi hanno riferito gli infermieri che lei è qui oggi per una visita dei nervi cranici e così ok mi hanno inoltre riferito che qualche tempo fa le è subito una forte caduta mi dispiace davvero tanto ma spero che ora sia tutto ok io personalmente trovo che sia in ottima forma però è sempre giusto assicurarsi che sia tutto ok quindi benvenuto per prima cosa direi di controllare i dati del suo fascicolo e assicurarsi che siano tutti esatti ok se può dirmi il suo nome cognome data e luogo di nascita ok perfetto la prima volta qui vero? sì ok bene ed è il suo primo esame dei nervi cranici giusto? sì ok bene, perfetto questo tipo di esame e questi esami sono assolutamente tranquilli assolutamente non impassivi e per certi versi sono anche rilassanti quindi non si preoccupi ok? andrà andrà tutto tutto bene e se ha qualche domanda ha qualche dubbio può può chiedere tranquillamente ok prima di cominciare possiamo darci del tu ok bene io che tu possa sentirti il tuo completo agio ok sia tranquillo ok bene perfetto quello che andremo a fare oggi sarà verificare la reazione dei tuoi nervi agli stimoli esterni che andrò a procurare io tramite una serie di piccoli esami super tranquilli ok andremo a verificare ok andremo a verificare la reazione del tuo olfatto della tua vista e del tuo udito ok bene poi andremo anche a fare un bel check out del tuo cuoio capelluto ok per verificare che sia tutto ok ok inoltre prima di cominciare qualcosa qualcosa che mi piace sempre fare chi preferisco fare è calcolare e segnare su apposita cartella i valori della pressione sanguigna è un dato che preferisco sempre avere ok allora cominciamo a prendere i valori della soppressione ok ok se puoi cortesemente fermi il tuo brazzo lo scopri un pochino ok bene 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 perfetto ricordi quindi ecco anche ecco 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 Perfetto I valori sono perfetti Posso segnare? Perfetto, io direi di cominciare col cuoio capelluto Comincerei proprio da lì Bene, adesso andrò a fare una leggera pressione E cerchiamo di verificare che sia tutto ok Ok, qui Andrò a fare questa leggera pressione e dei movimenti circolari Intanto mi assicuro che non ci siano ferite o lesioni Ok, ok Non rilevo nulla, sembra tutto Ok 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 perdi qualche tipo di dolore o fastidio se faccio così? e se faccio così? e qui? su questo lato? a me sembra che sia tutto ok qui perfetto direi di proseguire l'esame? ok prima cosa vado a controllare nei tuoi occhi non ci sia nulla, siano puliti ok? non ci siano lessioni e nulla visibile ok? quindi utilizzerò questa luce apri bene bene gli occhi apri bene bene guarda su guarda su ora guarda giù guarda di nuovo giù ok? 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 guarda di nuovo giù guarda di qua ok? l'altro lato guarda guarda di nuovo giù guarda di nuovo giù guarda di nuovo giù guarda di nuovo giù ok? ok? ok, perfetto adesso andrò a posizionare le mie dita sulle tue barbebre prova a chiudere gli occhi proviamo provo a chiudere gli occhi provo a fare resistenza esatto, così bene, bene perfetto ora facciamo al contrario vieni chiusi gli occhi faccio una leggera pressione e provo ad aprirli per resistenza prendo gli occhi forza, 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 ok di nuovo forza ok molto molto bene benissimo vuoi guardarmi? guarda dritto qui, punto fisso il mio naso guarda guarda dritto e dimmi quando vedi il mio dito entrare nel tuo campo visivo ok? ok guarda sempre qui ok 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 perfetto ok sento la mia luce segui il fascio luminoso va bene va bene segui, segui continuo così ok ok bene segui la luce segui la luce segui la luce segui la luce continua così ok bene altro lato ok segui la luce ok 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 bene ok ok adesso proviamo con un occhio alla volta va bene? ok vado a coprire uno dei tuoi occhi e facciamo la stessa cosa con un solo occhio alla volta ok 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 segui la luce ok 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 bene 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 stessa cosa da questo lato ok 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 da qui guarda qui guarda qui guarda la luce guarda la luce ok perfetto ottimo adesso adesso guarda meglio apri bene di nuovo gli occhi apri bene ok guarda di lato guarda di qua guarda di qua guarda di qua ok bene guarda 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 su guarda su guarda su ok guarda su guarda su guarda già guarda già guarda già guarda già perfetto molto molto bene guarda su guarda guarda facciamo questo altro esame ok guarda fisso qui il mio naso cercherò di comporre un numero con le dita guardando sempre me dimmi che numero vedi ok tre ok due quattro ok uno ok prova a seguire di nuovo la luce adesso ok ok guarda 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 ok guarda sempre qui fissi qui fissi qui guarda guarda molto bene molto bene perfetto adesso prendo queste schede colorate dovrai dirmi di che colore si tratta ok? che colore? ok e invece questo qui c'è questo qui e se ti mostrassi questo colore qui? ok ultimo ancora che colore è questo qui? perfetto adesso scriverò una lettera con fascio luminoso dietro al colore mi dirai di che lettera si tratta? ok ok bene ora scriverò un numero ok prendiamo un altro colore ok facciamo lo stesso prima la lettera e poi il numero ok ok bene che lettera è? ok 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 Perfetto Segui il mio dito Ecco Stia andando molto bene, molto bene Ok, va da qui Ok E Fisso qui, dimmi quando vedi entrare La mia mano L'altra mano Nel tuo campo visivo Periferico, ok? Dimmi stop Ok 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 Bene Bene Io direi che i tuoi occhi sono Perfetti Ok Ok E su Ci occupiamo delle tue orecchie Ok Bene A dare uno sguardo Con la luce Bene Andiamo qua Ok Ok Allora Sembra Ok, qui è tutto bene Tutto bene qui Ok Perfetto 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 Sembra tutto Sembra tutto Sembra che sia tutto il posto giusto Ok Ora 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 Verifichiamo Che tu non avverta Alcun tipo di Dolore O fastidio Se vado a Toccare Ok Bene Proviamo Andiamo Qui Qui Tutto bene Ok Ok Qui senti Nulla Tutto bene Ok E manchi di cuore Ok Qualche dolore? No Ok Fastidio? Proviamo Con questo qui Ok Stessa cosa Prima di qua Ok Ok Proviamo Ok Qualche dolore? No Ok 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 Così Ok 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 .. Ok Perfetto Erano di qua Ok 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 come da? tutto bene finora? si ok nessun dolore vero no? ok perfetto, perfetto, perfetto adesso andrò a sussurrare una serie di parole in orecchio vediamo se riesci a percepire tutto nella maniera esatta corriandoli, corriandoli ciclamino visita quadernodi ok bene, ottimo, perfetto ok io credo che sia tutto ok perfetto ok 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 niente dolore vero? niente ok 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 perfetto, perfetto bene così vediamo un po' vediamo un po' il tuo viso ok un po' ok dobbiamo un bel sorriso ok vedi un bel sorriso? sorridi pensa ad una cosa felice sorridi ok ok bene stringi i denti stringi, stringi, ok? molto bene bene ora facciamo questo esame io adesso ti toccherò con degli oggetti alcuni saranno appuntiti e altri saranno soffici e morbidi tu chiuderai gli occhi e dovrai dirmi se si tratta di un oggetto spingoloso appuntito oppure di un oggetto morbido, ok? bene chiudi gli occhi su chiudi gli occhi allora ok, chiudi gli occhi allora proviamo con questo qui questo ok molto bene molto bene chiudi gli occhi ok ok, apri ok apri ok chiudi gli occhi chiudi 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 apri ma ok l'occhio di occhi apri morbido, ok? bene ruota un po' la testa così ok l'altro lato un piccolo check dei tuoi zigomi e alle tempie, ok? ok perfetto su ora andiamo a fare un bel check del tuo fatto, ok? prenderò adesso una serie di fragranze darò qualche gazzina di ogni fragranza su un dischetto di cotone tu dovrai dirmi che tipo di fragranza aperte, ok? sono molto specifiche, ok? ok? e allora cominciamo con questa ok diamo così è pronto? ok ok cos'è? limone? ok limone bene, bene proviamo con questa qui ok e un altro dischetto ok che cos'è? che cos'è? rosa bene, rosa bene, rosa andiamo con questo che cos'è? che cos'è? che cos'è? che cos'è? ok menta bene ottimo prendiamo l'ultimo, ok? prendiamo l'ultimo, ok? prendiamo l'ultimo, ok? ok ok andiamo con le origini che cos'è? arancia che cos'è? ok perfetto un piccolo sguardo con la mia luce anche il tuo naso, ok? andiamo con le origini ok andiamo ok ok bene alzo un po' la testa, ok? ok sui occhiali vediamo bene 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 tutto ok mi sembra che sia perfetto ok andiamo a controllare anche per eccesso di zelo se avverti un dolore un fastidio ok 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 al contatto con questo piccolo pennellino ok all'interno della tua narizia, ok? vediamo un po' qualche fastidio qualche fastidio? no dolori? spicchietto? ok nulla ok bene bene ok 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 allora passiamo al gusto stessa cosa della fragranza di prima ok su qui ho una serie di provette ok su qui ho una serie sostanze sostanze che hanno un sapore ben preciso ok vediamo una coccina su un piccolo codonfioc lo poggerò sulla tua lingua e mi dirai che sapore avverti ok bene allora cominciamo con questo qui ok ok c'è una coccina una coccina una bocca ok ok che cos'è? cioccolato ok cioccolato ok cioccolato ok cioccolato ok 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 proviamo con questo ok ok bragola bragola perfetto ok 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 vediamo questo qui ok 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 che cos'è? braggola braggola perfetto questo era difficile bene l'esame è andato molto molto bene come già avevamo pensato è tutto ok tutto perfetto bene ce ne siamo assicurati bene molto bene prima di concludere la visita vorrei idratare un po' tutte le zone che abbiamo appena esaminato ok è un'altra tra le cose che preferisco fare mi piace per così credo sia qualcosa di più completo ecco adesso andrò ad idratare il tuo viso con dei sieri è dei 12 però totalmente un po' tutto ok 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 sei in ottima forma credo che sia un'ottima idea e ora dovrò effettuare un'altra visita simile tra un anno circa ma non prima perché tanto è tutto ok 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 e quindi e questo ok 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 un po' di questa crema ok idratiamo per bene che è il naso ok ok così se durante la visita c'è stata qualche piccola irritazione la risolviamo così ecco perché mi piace non saltare questo step e lo faccia sempre molto piacere e lo faccia sempre molto piacere ok 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 benissimo ok e allora e allora spero che tu sia stato a tuo agio che ora sia più tranquillo ok è tutto è tutto perfetto chiuderò la cartella e la consegnerò al tuo medico ok bene è stato un vero un vero piacere magari ci rivediamo l'anno prossimo ok ti auguro una buona giornata ti auguro una buona giornata grazie 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 grazie